La denuncia di un eccessivo sovraffollamento all'interno degli autobus, soprattutto negli orari scolastici, arriva dalle segreterie di Filt CGL e Will Trasporti, a firma rispettivamente del segretario provinciale Gerardo Arpino e Francesco D'Amato del Dipartimento regionale. La criticità viene segnalata sull'intero territorio di Salerno Città e su diversi percorsi extraurbani. Tutte le linee che dal capoluogo si dirigono verso i comuni di Napoli, Mercato San Severino, Avellino, Castiglione dei Genovesi, Montegorvino Rovella e sulla tratta Battipaglia, Olevano, Campagna, oltre che all'intero agro nocerino sarnese e la costiera amalfitana e sorrentina. Il ritorno in presenza degli studenti, non entrato ancora a pieno regime, ha già messo in evidenza la difficoltà del trasporto pubblico a sostenere la domanda. Va ricordato, scrivono i sindacati, che nonostante l'ottimo e condiviso lavoro messo in essere dalla prefettura di Salerno, i coefficienti di carico all'interno dei bus non possono essere superiori all'80%. E pertanto c'è la necessità di interventi ulteriori, mirati ad aumentare la frequenza oraria dei bus per rispondere all'esigenza di trasporto pubblico, limitata appunto con la richiesta degli studenti. Di qui la necessità di un incontro urgente in prefettura per discutere e valutare proposte concrete per garantire un trasporto pubblico locale in piena sicurezza, sia per gli utenti che per i conducenti.